La situazione recovery ed agenza al Cardarelli è rientrata nei canoni della normalità, l'emergenza dunque è terminata, lo comunica il direttore generale Ciro Verdoliva che ha dichiarato chiusa dalle 16 di oggi l'attività dell'unità di crisi che si era insediata il 23 gennaio. I nostri protocolli, le azioni straordinarie messe in campo, il sostegno proattivo della regione, il superimpegno dei cardarelliani, ribadisce il manager, ci hanno permesso di rientrare nei canoni della normalità in meno di 48 ore. Si conferma che tutte le attività chirurgiche sono state ripristinate e procedono senza alcun intoppo, insomma emergenza finita e pazienti ricoverati ai propri posti da rianimazione e vari reparti con tempi di attesa normalizzati. I tempi medi di trattamento in codice verde sono stati di 41 minuti, in codice giallo di 27 minuti, in codice rosse non c'è alcuna attesa, nessun SOS Barella o pazienti in attesa in condizioni precarie dunque. Intanto sul caso Nola sono state rimandate a venerdì prossimo le audizioni in commissione disciplinare dei tre medici dell'ospedale civile, sospesi dopo la diffusione delle immagini che ritraevano utenti del pronto soccorso adagiati sul pavimento nella notte tra il 7 e l'8 gennaio per la mancanza di letti e barelle. Le audizioni per il direttore De Stefano e i responsabili del pronto soccorso si terranno venerdì, quando i tre medici riferiranno alla disciplinare del proprio operato durante le fasi concitate dell'emergenza, quando nel pronto soccorso in poche ore arrivarono 265 persone, due delle quali furono adagiate sul pavimento per ricevere le prime cure.